Quando ci troviamo di fronte ad un paziente che presenta una patologia renale, nel caso particolare una riduzione del filtrato glomerulare o una proteinuria, occorre necessariamente valutare il suo profilo lipidico, perché esistono evidenze epidemiologiche che dimostrano come l'alterazione del profilo lipidico è in grado di peggiorare la prognosi cardiovascolare dei pazienti affetti da malattia renale cronica. Sebbene le alterazioni del profilo lipidico nel paziente con patologia renale sono complesse in quanto riguardano diverse classi lipidiche, sicuramente la prima misurazione che occorre ottenere è quella della concentrazione della colestremia LDL, cioè la concentrazione delle proteine aterogene per eccellenza. Noi oggi sappiamo che un paziente con malattia renale cronica in relazione alla gravità dell'insufficienza renale deve puntare a raggiungere livelli di colestremia LDL che sono almeno inferiori a 70 mg decilitro, che in alcuni casi e in alcuni pazienti devono invece addirittura essere portati a 55 mg decilitro, soprattutto nei pazienti con malattia renale cronica che si trovano nella categoria del rischio cardiovascolare più elevato e tutto questo perché studi di intervento prevalentemente, ma anche studi che derivano dalla raccolta dei dati di mondo reale, hanno dimostrato che il raggiungimento di questi obiettivi lipidici sono in grado di determinare un miglioramento della prognosi cardiovascolare di questi pazienti e voglio ricordare che il paziente con malattia renale cronica tende più frequentemente ad ammalarsi o addirittura a morire per complicanze della malattia cardiovascolare su base ateromasica che non per un deterioramento ulteriore della funzione renale. Quindi il profilo lipidico nel paziente con insufficienza renale cronica deve rappresentare uno dei primi elementi nella gestione clinica corrente di questi pazienti. Grazie a tutti!